Bisogna istituire il tavolo permanente per monitorare gli interventi inseriti nel patto per il Sud e affinché le compensazioni ENI inserite nel protocollo d'intesa con il MISE, Regione ed ENI possano essere spese con più celerità e con la massima trasparenza e diligenza. L'ennesima richiesta al Presidente del Consiglio Comunale di Gela, Alessandrasia, giunge dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso. Finora, dicono, nonostante numerose sollecitazioni, è stato fatto nulla. 15 novembre è stato approvato a delibera del Consiglio Comunale di istituire un tavolo urgente e permanente. Ad oggi il Presidente del Consiglio non ha riunito nemmeno i capogruppi su questa proposta e noi ci teniamo a pungolare questa proposta perché la riteniamo importantissima per la nostra città. È un'opportunità che la città non può permettersi di perdere e noi quindi siamo lì con la nostra attenzione a pungolare l'amministrazione comunale e la Presidente del Consiglio Comunale. Il tavolo permanente non è soltanto sulla raffineria ma è su tutta la progettazione di riconversione, sulle opere del patto della Sicilia e anche sulle compensazioni minerarie che oggi sono perse nei meambri della Regione. Alcuni giorni addietro il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha riferito che a gennaio partiranno i cantieri a Gela inseriti nel patto per la Sicilia. Si tratta di 27 progetti per una cifra che ammonta intorno ai 60 milioni di euro. L'assessore lavori pubblici ci ha detto che alcuni cantieri inizieranno già da gennaio. Noi siamo fiduciosi e infatti il nostro tavolo da istituire è importantissimo proprio per capire la veridicità di queste cose. Noi siamo fortemente convinti che il Consiglio Comunale deve avere un ruolo importante insieme a tutti gli altri gruppi per programmare quella che è la nostra città, cosa vuole fare da grande la nostra città. Noi lo vogliamo fare con forza ma evidentemente sia il Presidente del Consiglio Comunale forse perché sarà tirata la giacca da Partito Democratico perché vuole fare brutta figura a questa amministrazione o a Presidente Crocetta, noi non riusciamo a capirlo la lentezza di istituire questo tavolo. Non lo riusciamo a capire. C'è una grave crisi e se non la si combatte immediatamente con l'apertura di tutti i cantieri possibili sia delle compensazioni eni, sia per il patto per la Sicilia, sia con le compensazioni minerali sarà difficile uscirne fuori.